Allora, mi sono avvicinato semplicemente a scuola, tra i banchi di scuola, facendo rime con i compagni in modo stupido, così per passare il tempo e non studiare ovviamente. E niente, poi alla fine il tempo passa, tappassioni, continui a fare rime, rime, pezzi, pezzi, fai un sacco di canzoni e alla fine le metti su YouTube e vedi come va. Allora, quando hai un po' di esposizione, ho avuto la fortuna di fare un programma che comunque quando vuoi ti mette davanti a un pubblico immenso, alcune persone non gli sta bene, alcuni amici che hai magari storgono un po' il naso, metti l'invidia, metti altre cose che non ho idea che cosa possano essere. Esci da lì che ti ritrovi delle persone che c'erano che non c'erano più. Non so, capitano queste cose, purtroppo. Mi trovo benissimo, guarda, io ti dico la verità, appunto, legandomi al discorso prima di amici, io sono uscito alla seconda puntata del serale, cioè, ho fatto tre mesi, sì, ma comunque non ho avuto l'esposizione mediatica di una semifinale o di una finale, nonostante il fatto che io non sia arrivato in fondo. Abbiamo avuto dei grossi risultati e di questo sono contento e fiero perché amici sì, ti dai il calcio in culo, poi devi essere tu bravo a gestirtelo e la mia etichetta e il mio lavoro insieme hanno funzionato fino ad oggi, sperando che funzionino anche in futuro. E sono molto contento di questa cosa. Il curriculum non è dal titolo, parto, perché non è null'altro che il mio curriculum cantato, una roba un po' alternativa. Sono 12 canzoni e niente, guarda, ti dico, le ho fatte un po' prima di entrare ad amici. Un paio le ho fatte ad amici e poi mi sono uscito da lì nel delirio totale, mi sono chiuso 10 giorni in studio, l'ho registrato come un pazzo. In 10 giorni ho chiuso il disco, ho mixato, ho fatto le foto in copertina, tutto quanto e sono uscito in stampa subito. Ebbene, siamo qua. A me piace un sacco la musica leggera e quindi mischio le cose il più possibile. Sono molto orientato sul pop, mi piace un sacco il garba. Se venite sulla mia pagina di Facebook che è Daniela Home Official, no che non è, è Facebook Daniela Home Official, ok ce l'ho fatta. Venite e scoprite tutte le cose che faccio, le cazzate che dico, anche lì mi diverto una cifra di reminchiate, su Twitter anche. Saluto i fan di Urban Week, un abbraccio, un bacio, un limone, dico quello che volete e alla prossima.